Porto turistico Marina di Pescara con il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Questa regata velica dedicata a Danunzio nell'ambito del Festival Danunziano dal 3 al 12 organizzato proprio dal Consiglio regionale. Perché la scelta di questa iniziativa? Innanzitutto perché Danunzio aveva un grande rapporto con il mare, con la vela e con le imbarcazioni. Poi perché noi a Pescara abbiamo una delle marine più belle dell'Adriatico che ha bisogno di essere sottolineata nella sua bellezza e di attrarre attenzioni per risolvere alcuni problemi strutturali che ci sono che la rendono sottosfruttata rispetto alle potenzialità. Poi per ribadire il nostro rapporto con il mare e poi per aiutare il club nautico Circo Lovera di Pescara a rilanciarsi, che è un altro strumento di grande marketing territoriale. E quindi abbiamo inserito nell'ambito di un programma che è fatto di tante cose, dalla musica al teatro, la cultura ai libri alle mostre, all'arte e anche lo sport. In questo caso abbiamo scelto la prima edizione di una regata velica che ci sembrava particolarmente attinente al programma. È un grande spettacolo, naturalmente visto dall'alto e quando rientreranno le barche voi ci ruiterete a farlo vedere a tutti gli abruzzesi. Ha parlato di eventi, appuntamenti e nomi di prestigio. Beh sì, sono tanti gli eventi, da De Gregori Domenica a Bollani e Sgarbi il 9, ad Alice che canterà battiato in questo anno triste che ne ha visto la scomparsa, al grande concerto del Conservatorio Luisa d'annunzio dedicato ai cento anni della nascita di Astor Piazzolla, alla conclusione del festival con Bennato e tanti altri eventi con magari nomi meno conosciuti dal grande pubblico ma che hanno un grandissimo valore artistico e culturale. Ne voglio sottolineare uno che è lo spettacolo teatrale della Clitemnestra, questo mito greco che parla di giustizia e che è stato scritto dal presidente della Camera, Luciano Violante.